Una Fiorentina davvero forse irriconoscibile quella vista oggi proprio in casa sua ha contro l'Udinese L'Udinese fa un poker di gol, 4 gol straordinari e per Fiorentina perde clamorosamente Eppure la partita si è tenuta in Toscana in casa proprio della Fiorentina 4 gol dell'Udinese, vediamo nel dettaglio Pablo Mari nel dodicesimo del tuo tempo la butta dentro, segna Deulofeu al trentaseiesimo la mette dentro nel primo tempo Wallace al novantunesimo della ripresa e al novantacinquesimo del seni Udoji la mette dentro 2 nel primo tempo, 2 nel secondo tempo nella parte finale della partita Gara veramente ricolma di fascino, Udinese brilla di luce propria, prova una stella Propone un gioco piacevole, divertente, gerbato ma soprattutto frizzantino E questo penso che va a deporre pienamente a favore dell'Udinese calcio Bene, complimenti dunque all'Udinese, il video termina qua Iscrivetevi e commentate, tale andate tutto, una radio italiana